le basi sono le stesse che per una qualsiasi altra pagina su linkedin non cambia molto in realtà cambia il fatto che i contenuti devono essere di qualità quindi sicuramente creare una pagina aziendale che sia completa quindi che rispecchi la brand identity dell'azienda e soprattutto trovare un tono di voce un linguaggio uno stile e poi costruire un piano editoriale che siano ricchi densi di contenuti utili anche perché spesso le pagine aziendali o in generale le aziende comunicano in modo freddo rigido come se dovessero comunicare dei comunicati stampa quando in realtà si sa che questi sono contenuti che non interessano i contenuti autoreferenziali o auto celebrativi dell'azienda quello che oggi interessa sempre di più e che funziona sulle pagine aziendali ma non solo sono i contenuti più human quindi quelli che parlano delle persone o che comunque danno delle informazioni utili agli utenti quindi queste sono un po le regole base ce ne sono tantissimi di elementi che non devono mancare l'immagine profilo l'immagine di copertina per esempio le informazioni principali e quelli che sono adesso molto importanti su linkedin perché permettono di essere trovati meglio dai talenti i commitments quindi gli impegni dell'azienda e poi i contenuti ovviamente non devono mancare i contenuti perché una pagina aziendale vuota non serve a niente 100 per cento ma anche qui ce lo dicono i dati e il comportamento dei brand i grandi brand sono sempre quelli che fanno un po da trendsetter diciamo come si quando si muovono in un certo modo i grandi brand significa che c'è una tendenza e che quindi tutti gli altri seguiranno un po come nella moda dopo la fashion week e i brand quelli grandi ci dicono che non si può più comunicare in modo rigido e freddo ma si comunica in modo umano e anzi ti dirò di più le aziende tendono a trasformarsi in creator e i creator tendono a trasformarsi sempre più spesso in aziende questo che cosa significa che se le aziende si stanno stanno cercando di trasformarsi in creator vuol dire che per comunicare per intercettare il proprio pubblico il proprio target di riferimento bisogna necessariamente avere un approccio umano nella comunicazione sicuramente costruire la pagina aziendale in modo accattivante quindi immagine di profilo di solito è il logo ma l'immagine di copertina su quella si può giocare molto ed è molto importante per comunicare che cosa fa l'azienda e chi è o i valori che vuole che vuole esaltare poi completare tutte le informazioni tutte aggiungere quelli che sono gli impegni aziendali quindi che può essere l'attenzione all'ambiente o il remote working e poi costruire una strategia una content strategy un piano editoriale che siano incentrati su contenuti utili e informativi utili per gli utenti non utili per l'azienda perché spesso ciò che è utile per l'azienda non è utile per gli utenti quindi non ad esempio comunicati stampa di cose interne quelle non interessano contenuti utili e informativi per gli utenti contenuti umani quindi che mostrino le persone e soprattutto contenuti che vadano ad arricchire quella che è la piattaforma quindi dei contenuti che non puntino solamente alla vendita ma a generare un impatto un valore possibilmente positivo anche perché questo attrarrà all'azienda non soltanto persone in senso più generale del termine ma persone sia in target con l'azienda che possibili clienti che di queste persone anche talenti